Buongiorno, prego prego, l'entrata è libera, certo che può guardare, poi se ho bisogno di me, sono qua, d'accordo, si, ha già bisogno di me, perfetto, mi ricaduto, quindi cercavo un profumo per suo marito e per il suo figliolo che deve fare regalo alla fidanzata, San Valentino, ormai le porte, certo, certo, allora, si, si ha letto bene la profumeria Pazzaro, perché da poco siamo aperti e abbiamo unito la profumeria Pazzaro, in modo che anche i profumi, che abbiamo quelli, ovviamente, più in poca, più conosciuti e quelli, diciamo, più antichi di mio amore, così, così, non tanto di natore per i miei sui profumeria, e quindi costano di meno, certo, avrei diretti per iniziare con suo marito, allora, intanto suo marito ha la barba, questo, no, è importante sia, cioè, verso, diciamo così, verso quale profumazione orientarsi, quale fragranza, e, sì, perché sì, infatti, perché sulla barba i profumi, ovviamente, tendono a diventare un attimo più secchi, che profumi usa attenzialmente suo marito, lo scrivo tutto, perfetto, allora, guardi, io mi proporrei questo, questo profum qua, Valentino, come vedi, la convenzione, l'hanno fatto proprio, è tutto originale, il vetro, come sempre, è un vetro, spesso, e questo è il tappo, la particolarità, che non è che sia rotto, è fatto proprio così, perché va ad incastro, che non è semplice neanche per me, che è appena arrivato, sì, infatti, come ogni tappo, se io schiaccio, il prodotto non esce, e lo faccio sentire e provare. a me piace molto, anche perché, comunque, non è spezzato, come ho potuto sentire, non è proprio secco, 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 perché, se no, diventerebbe, e ha quel, ritrovato, un po' di dolce, poco, poco, quindi, quindi, va bene sia sulla barba, che se se lo dovesse spruzzare, che va a finire, ovviamente, sul collo, però, va a avere, poi, due profumazioni, così, e questo, 100 ml, come vi ho spiegato, dato che noi siamo profumeri pazzara, che lo posso fare a 45, pensi che così, costa il doppio, poi, di due ml, del prodotto, come l'ha trovato? buono, sì, pensi che, comunque, viene utilizzato, in forma, tipo, unisex, perché, nell'uomo, che nella donna, poi, dipende che carnagione ha, suo marito, perché, sulle carnagioni scure, intende diventare, leggermente, più dolce, anche io, sulle carnagioni scure, e lo uso pure io, sì, perché, sia per l'uomo, che per la donna, visto i gusti, che mi ha detto, i profumi, che usa, ti piace? allora, lo metto da parte, ho deciso per quello, non vuole sentire altri, va bene? poi, che voleva un profumo, anche per lei, e se poi il marito gli fa un profumo, ha anche l'uovo, quindi non potrebbe indovinare, bene, allora, io, le, le proporrei, che profumi ho usato? ah, è quello lì, sì, sì, questo, visto che il matuto sono nuovo, è una convenzione carina, originale, anche se la vorreste regalare, e farlo diventare regalo, per la fidanza di sua figlia, e questo è il bulgari, effetto orologio, molto carino, e niente, no, non è da così, l'utilizza così, adesso glielo faccio sentire, sette, sì, diciamo che è un profumo, non è speziato, però qua, più su secco come profumo, lei fosse il profumo oggi, lei fosse il profumo oggi, è indecisa di cambiarlo, ah, ah, ok, sì, ce l'abbiamo, lo conosciamo, ti posso? è sempre tentato a riprenderlo, ma è caro, 5,50 ml, anche lei usa questa confezione, e ne posso fare 35, pensi, che costa tanto il doppio, lei lo sa, sì, allora, ho tentato sul po' sotto, ok, c'è anche una profumazione, non vado a cosciutto come l'angerti, sì, comunque, tenga conto che sono tutti profumi, ovviamente, con prezzi più contenuti, e ti faccio sentire anche questo, ti faccio sentire anche questo, la faccio già un po' evaporare, perché, insomma, non si sentono bene, prego, sì, questo è il legge matte, un po' più speziato, e anche questo, 100 ml di prodotto, ah, lo sapevo una sua amica, no, costiamo 20 euro, e dei prezzi, ok, sì, non ho tanto, sto scrivendo tutto, non si preoccupi, quindi lei, però, però, le faccio sentire, adesso, delle profumazioni, delle fragranze, che possono andare sia per la ragazza che per lei, e magari se lo può prendere anche lei, allora, quello che magari tante gente non si ricorda più, ma usa più, è paillette di ricocomere, sempre bella la confezione in arcobal, con il suo tappino, e qui andiamo su dolce, sì, prego, buono, eh, e c'è, i profumi non si sentono più, ma perché comunque continuano a cambiare, ne fanno vicine tanti, e questo è molto, molto bello, ne piace anche lei da promozione, questa, ok, ok, quella io lo passo, io lo passo a 25 euro, magari vediamo, magari farà anche un altro sconticino ancora, ok, ok, la ragazza ha detto che è tanto giovane, no, è tanto giovane, allora, potrebbe andare bene anche in bagnetta, se lo vuole anche per lei, oppure, che questo è uno che si usava molto tempo fa, un 101L, di, goccia di napoleon, e ha una profumazione particolare, senta un po', fra lì, al bel bar, aah, e questo 10 euro, e questo 10 euro, Sì, sì, e, oltretutto, e non è che i profumi hanno un'età, ci sono quelli più impegnativi, fiume uguali appello che son, per ragazzi di città può andare bene oppure soltanto sono tutte tessere quindi non si preoccupi oppure abbiamo questo profumo che mi scusi ma non ho messo gli occhiali un po' tipo che flora è un profumo eh sì quindi sono tanto dolci e più lo facciamo evaporare più è molto dolce e sono dolci a me le piace perché va sulla vaniglia allora ragazzi tipo questo qua questo abbiamo proprio cocco vaniglia sì questi sono anche della Alice Ashley 50 ml questo 8 euro sì anche qua bella questa confezione però questo è tempimente dolce cocco vaniglia mischiato a me piace molto il dolce poi la vaniglia la amo in modo palubicolare prego eh sì può comunque ma è solo pelle varia però però il cocco vaniglia non è che fare tanta tanta dolce per tutti e beh sì non ho poi fatto tutto alla cassa dal mio collega quindi c'è quello che ho un altro è unique e questo è più più speziato anche se sono tutti profumi giovanili con la facilità e li fanno proprio con la facilità poi ci sono le confezioni piccole cocco vaniglia ma sì sono tutte cose io le faccio sentire un altro profumi mazzone questo sono vaniglia però vorrei sentirlo sì quindi allora Vantino fatto se il marito penso di andare a regalare anche lei il paillette sì ok posso prender una bella spesa ok posso è questo secondo me però tanto lo conosci quindi lo prende automaticamente perfetto sì beh certo vi ho molti durante visto che ti ho parlato del passare sì ce ne abbiamo neutro ci sono tanti attaccati alla nostra profumeria lei preferisce perché è abituato con questo neutro per le sensibili va bene lo metto da parte poi per una pinta anche lei perché giustamente se non gli arriva il profumo violetta ce l'abbiamo tipico e adesso vanno un po' tutto con violetta ma guardi prima non è che si conoscono è proprio caramella senta un po' si vediamo che questa bella bimba così non si sente anche lei su valentino valentino dei genitori si ok perfetto o come potrebbe anche provare il solito oriente per esempio questo è la mia lo conosce è una bella una bella sperma si perfetto allora io faccio un attimo di calcoli di calcoli guardi ti faccio 90 euro tutto con si vera poi nel nostro un fazzar molto volentieri 90 euro tutto con di si con di buoni omaggio da utilizzare si 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 no non pagame allora guardi intanto visto che il profumo è andato a finire anche sulla mano almeno se e si perché anche quando si mette sul cartoncino soprattutto quello che è sotto il tessuto va a finire sulla mano così non va in giro con profumisti si gli fa pure un pacchettino regalo il mio collega allora io la omaggio con il piccolo campioncino di misoni e la camera è questa bochette bellissima come vede si è la bochette infatti di hypnotic sentite il tessuto il tessuto abbastanza poi la chiude dentro mette tutti si la può usare sia per i trucchi che per tenere appunto dei profumi se non le vuole tenere spossi allora io ripeto il campioncino il tessuto che per i trucchi è un pochettino bellissima e delicata è stato un piacere per me infinito servirla certamente l'aspetto penso che tre giorni finiremo la ristrutturazione l'aspetto volentieri tanto ci sono io qua l'aspetto volentieri nel nostro pazzar allora auguro che possa benentino e mi auguro che ritorni arrivederci